Siamo Ivan Piris, una prima partita all'Olimpico, una buona prestazione per quanto riguarda, ma forse la squadra è un po' indietro dal punto di vista fessico. In diretta ragazzi si appartiene per parlare Piris dopo la traduzione dell'interprete. La verità è che è stato un grande contesto per me, è stato un lindo partito. Praticamente non abbiamo vinto e questo fa notare gli errori che avevamo dentro del campo. Io credo che lo che falta è un po' di ritmo, che con il correre di un partito può essere migliorare. Sono contento del mio esordio, ho fatto una buona partita, purtroppo non siamo riusciti a vincere. Questo fa sì che i nostri errori si notino aggiormente, credo anche che ci manchi ancora un po' di ritmo, ma per non passare delle partite è migliore. È mancata un po' di organizzazione e di idee, soprattutto nel secondo tempo, magari un po' troppa fretta di poter vincere la partita invece che accelerare il gioco, l'ho un po' a volte così accorciato nei tempi. Un po' tu vuoi rimassare la prisa, la retta, l'attaccata. No, io credo che no, è quello che l'entrenatore chiede, è quello che noi anche noi. Deseavamo implementare questo dentro del campo, recuperare la pelota e ir rapido all'attacca. No, è così come pretendiamo jugare e credo che salirono bene, solo che non metteranno due volte, quindi credo che migliorino un po' in questo senso, nel senso di effettivamente. Dice, beh, in realtà è quello che ci chiede l'allenatore, no? Ed è anche quello che noi vogliamo fare e tradurre sul campo, cioè recuperare la palla e subito ribaltare l'azione. Purtroppo abbiamo incassato due gol e dobbiamo migliorare su questo. Grazie a tutti.